...filmerda arriva la PS ti sto filmando, svettila eh, fatti i coglioni, vettila svettila io non ho finito l'aperta, che vede che non ho finito l'aperta io non ho finito l'aperta io sta arrivando la PS sta indietro, sta indietro sta indietro ehi ehi smettila, smettila smettila che cosa è che vuoi? per una cazzo di copertura sicurativa stai facendo questo macello ma tu hai capito una cosa cosa stai facendo? non posso neanche permettermi la serata ho capito ma non devi comportarti così eh? non devi comportarti così oh! vieni qua che ti spacco in due no 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 no… destruction questo è una PS vieni qua che ti spacco in due figlia di puttola sta arrivando Alpha l'unico Non so se ti conviene che la usiamo Centrale se vuoi io o lei faccio subito la scena Eh dai, si dai, chiamami fuori Pia No signora, ti conviene o fare il giro largo Ammazzarci con un fratello Ok centrale io parto eh, con i colleghi e io vado Chiasi dove stai? No, il mio collega è arrivato Chi è? Occhio, occhio, c'è la cacciavita in mano, occhio E vuole continuare ad attaccarsi Guarda che ti spariamo nelle gambe, smettila Smettila, smettila, smettila Se mi sbagli, mi sbagli, siete morti Smettila Se mi sbagli, mi sbagli, siete morti Smettila, smettila Usa quel tesa, scusa, usa Quella tesa, no, quell'aspetto di merda Cosa è successo? Avanti Ritrovate il servizio e vado al cerco, il fratello Mettila, mettila Sì 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 Di merda Sì